Assessore Di Stefano, dopo essere stato attaccato personalmente sulle manutenzioni stradali che mancano qui sull'intero territorio comunale, il gruppo di Futuroin chiede al comune di Teramo di contrarre un mutuo da 2 milioni di euro per le manutenzioni stradali. Vi aspettate una risposta positiva? Allora, attaccato personalmente sì, perché sono io la figura che ha quella delega, però è chiaro che era un attacco all'intera amministrazione di manutenzioni per quello che riguarda quelli stradali, almeno quando ci vengono questi tipi di lamentere, sono state fatte pochissime in questi anni. Ho detto più volte il perché, perché ci siamo concentrati sulle manutenzioni degli edifici scolastici, quindi è una decisione che abbiamo preso tutti quanti insieme, però sapevamo che adesso, che prima o poi arrivava il momento, che dobbiamo concentrarci maggiormente, dando la priorità alle manutenzioni stradali, quindi tra virgolette agli asfalti. Per questo Futuroin ha ribadito questa cosa, ma che non penso che nella maniera più assoluta ci possano essere problemi, perché è una cosa che faceva parte del programma del sindaco e che condividiamo tutti quanti, quindi su questo siamo tutti d'accordo. Adesso come ci si arrivi chiaramente va ragionato. Può essere un programma in là negli anni, quindi fatto con la contrazione di un mutuo, può essere utilizzando i soldi della contrattazione dell'antenne, può essere utilizzando i fondi della vendita dell'immobile, su qualsiasi esso sia l'entrata che andrà utilizzata, comunque il concetto è che bisogna concentrarsi sulle manutenzioni stradali. È stata fatta una valutazione che per fare un programma serio di manutenzioni, chiaramente nel tempo, che non è una cosa che poi sviluppi in due o tre mesi, quindi almeno con un paio di anni, diciamo che con un paio di milioni di euro, c'è la garanzia che nel giro di un paio di anni riesci a sistemare molte situazioni per quelle che sono le strade della città.